Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video Siamo qua nel post partito di Juventus Juventus, Verona, 2 a 1 di Juventus E anche la partita da dietro di Gianluigi Buffon Che li lascio da Juventus dopo 19 anni Che dire, l'avvento dell'uscita di Buffon è stato un momento triste Siamo chiaramente che sono contento che per tutto quello che ha fatto per la storia della Juventus Per quello che ha fatto per questa maglia E' anche stato il capitano dopo la gioia del Pierce anni fa Adesso non sarà Chiellini al suo posto La Buffon fosse stato uno dei più grandi partieri della storia della Juventus Sono il più grande Uno dei più grandi partieri anche italiani Sicuramente partiere che non dimenticheremo mai Si parla in tante voce che dicono che va al palazzo da Germain Chi lo sa lo vedremo, ne farò Vediamo cosa deciderà settimana prossima E nel caso farò il video Che nella partita semplicemente partita a fine da 1 Juventus vince però ci stava un rigore su 2 a 0 Parlo di Buffon ma forse l'arbitro lì ha preferito Lascia stare per non rovinare come ultima per sua partita Perché dopo due minuti dopo è uscito dal campo Mezzo... Adesso sto molto triste E' veramente Buffon Che lascia il campo Che ha fatto venti in giro di campo Qualcosa... Non c'è parola Ma è stato un grande portiere Ormai... Non c'è solo parole per riscrivere Cosa ha fatto questo portiere Per la Juventus Insieme al Pierce Insieme al Chiellini Quelli che hanno fatto la storia della Juventus Fino adesso Sono forse l'ultima battiera Adesso vedremo come andrà avanti Deciderò di finire o no Juventus vince Conferma Nella settimana scuoletta consecutiva Tra poco ci sarà la festa E' un altro aspetto Che con c'è la prima azione Registra questo video Partita non bellissima Verona che ci ha provato qualche volta Juventus che ha mangiato i jersey goal Anche lì Nicolas Ha fatto i 20 per 20 Gole su un errore Appena il giocatore Appena è entrato Il vero del secondo tempo Che non marca bene i rugani E lo tiene in gioco 1-0 2-0 Di Pierci Sponizione Barriere che salta Un po' Sì Un po' No La palla passa proprio Il giocatore non sarda E uno di Cerci Per lo goal Però in porta c'era già Prince Oglio Se non sbaglio si chiama Vedremo Buffon Mezzo alle lacrime Tutto Ha scelto lo stadio Giusto Ha fatto affare La standing ovation Allegri Come giusto che sia Se ne merita Tutti questi applausi Dello stadio L'intero stadio Vedremo che arriverà A suo posto Si parla sicuramente Di Perin Come secondo Al posto Scesni Io come ho già detto Perin Non mi attira Come portiere Preferi Che puntasse Su qualche altro portiere Lo vedremo Sarà difficile Perché comunque Trovare uno Che sta da secondo E non fa Da primo È difficile Attualmente Perin È uno dei pochi nomi Palpabili Secondo me Comunque Da Roma Andrà Probabilmente All'estero Non resterà Probabilmente Il Milan Perché c'è Reina Vedremo Come andrà a finire Se parlerà Il calcio mercato Non è ancora cominciato Ma La settimana prossima Cominciano ad aggerare Le prime voci Dopo Probabilmente È dal primo luglio Arrivando Gli acquisti È da lì Però Gli acquisti Se ne parlerà Giusto Ha meritato La Juventus Che chiude il campionato A 95 punti 7 Più del Napoli Che deve ancora giocare domani Con l'ultima Inutile partite Per loro Per il Crotone No Che la sua avversaria Gioca nel Napoli Perché il Crotone Deve vincere Forse non per forza Se gli basta un pari Ma Se vale assicurarsi I servizi Dei batterelli A Napoli E La vedo dura Mi spiace Per il Crotone Stagione È dato Secondo il migliore risultato La storia Della di Vento Stop record Di Conte Di 4 anni fa O 5 anni fa Di 102 punti Altrimenti Ancora Record Assoluto Di punti Fatti in sera Beh Da aver concesso Di 3 punti 95 punti Che non è Il terzo Quattro risultato Migliore Dopo l'Inter E il 2010 Forse il 2009 Mi ricordo Che aveva fatto 99 punti Che dire Davo 98 Frente Fisca con la stagione Conceranno i mondiali Tra un mese Esatto E vedremo come andrà Domani Frente uscirò Il video Post Post Stagione Perché ormai Buonasera Si chiedono tutte le partite Se chi deciderà L'ultimo posto In Champions League Due posti in Europa League Perché guarda Quello che andrà in Champions League Gioccherà in Europa League Gioccherà Inter-Lazio Azzio Inter Che si deve Si affronterà domani Chi vince va in Champions La Lazio Basta anche il pareggio E il quarto posto Tra Fiorentina E Atalanta Mi pare Ma ricordo C'è Fiorentina Milan Milan Si è sicurato L'accesso al milano I preliminari Di Europa League Anche perché Non può essere Superati da entrambe Che dire l'altro Ci vediamo domani Con un nuovo video O stasera vediamo Stasera live Non so Vedremo Ascoltami mi piace Iscriviti al canale Grazie capitano Non si può dire niente Grazie buffon Addio E ascoltami Iscriviti al canale Vi ho ancora una buona gianta Qua la pinta Sottone è tutto Ciao Ciao